L'architetto Donatello Messina, funzionario in servizio presso l'assessorato territorio e ambiente, come ormai ben noto, è stato nominato con decreto dall'assessore regionale Maurizio Croce, commissario ad acta presso il comune di Canicattì per provvedere in via sostitutiva, previa verifica degli atti, agli adempimenti sindacali relativi alla formazione del piano regolatore generale della città. Intanto l'altro pomeriggio, presso la sala convegne di Palazzo Stella, si è tenuto un incontro tra lo stesso commissario ad acta affiancato dall'architetto Savatore Carlino, posizione organizzativa numero 3, è responsabile della sezione urbanistica del comune con i tecnici esterni liberi professionisti appartenenti ai vari ordini professionali della provincia di Agrigento come architetti, ingegneri, geometri e geologi. Nel prendere la parola l'architetto Carlino ha fatto un breve assunto su come si è arrivati al commissariamento annotando le varie proposte fatte dai tecnici liberi professionisti locali per poi poter in fila relazionare in consiglio comunale al fine di ottemperare il più tempo possibile alla formazione del piano regolatore generale e fornire quindi alla cittadinanza uno strumento urbanistico che sia più funzionale ed efficiente rispetto a quello ad oggi vigente. Da parte sua l'architetto Carlino ha altresi annunciato che si verrà promotore di altri incontri sul tema in questione con cittadini e vari rappresentanti dei settori produttivi e commerciali a cui si chiede un aiuto specifico al fine di evidenziare eventuali necessità di natura urbanistica o carenze di servizi invitando gli stessi a formulare proposte che verranno prese in considerazione nella stesura del piano regolatore generale un importante strumento urbanistico che prima di tutto appartiene ai canicattinesi e non agli organi istituzionali e far sì che sia uno strumento democratico nell'interesse generale che possa dare un cospicuo contributo alla ripresa socio-economica.